Ha preso il via ieri da Auletta il progetto di pianificazione delle attività dei servizi veterinari per la mitigazione del rischio in caso di esondazione del fiume Tanagro, voluto dal Cervene e dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno in collaborazione con la comunità montana Vallo di Diano. Il protocollo d'intesa è stato firmato dal direttore tecnico del Cervene Raffaele Bove e dal presidente dell'ente montano Raffaele Accetta. Presenti all'incontro ieri anche i dirigenti dell'ASL Giuseppe Fornino che è anche consigliere del consorzio di bonifica Vallo di Diano e Tanagro e Nicola Cestaro. L'obiettivo del progetto spiegano i promotori è capire in caso di esondazione del fiume Tanagro quale allevamento e aziende produttive o di trasformazioni mettere in salvo. L'area da considerare comprende i 15 comuni del Vallo di Diano individuata dalla regione Campania quale zona di allerta rischio idraulico 7. Il territorio in questione vede in media ogni anno dai 750 ai 1000 mm di precipitazioni. Nel 2010 l'esondazione del fiume causò numerosi danni al comparto zootecnico e un'altra potrebbe riportare alla luce spore di Bacillus antracis con rischio carbonchio ematico. Il territorio è stato infatti interessato da focolai di antraci nel 2011. In una prima fase il progetto si propone di valutare il rischio delle strutture zootecniche e delle attività di interesse veterinario quali caseifici, macelli, centri di raccolta latte, canili, agriturismi, ambulatori di liberi professionisti e apiari. Seguirà un censimento e verificate le coordinate geografiche poi trasferite sulle mappe GPS di rischio già elaborate dalla comunità montana per capire quanto le strutture in questione sono pronte ad affrontare l'emergenza. Sarà necessario poi conoscere di ognuna la capacità produttiva e lo si farà mediante un questionario. I dati relativi alle attività zootecniche e veterinarie saranno quindi integrati all'interno dei piani di emergenza zonale di protezione civile dei singoli comuni. Un lavoro sinergico che vedrà insieme enti, volontari e professionisti per assicurare il benessere degli animali, garantire la continuità operativa delle aziende zootecniche e la sicurezza alimentare dei residenti.